...di polla, singe le mani, a destra e a sinistra, piccolo, grande così, emergente, storia, e record, e vi occupo per Davide Magnini! Rémi Bonnet! Rémi Bonnet, second place. Distrutto al taguardo, non ne ha più, basta! Molto bella la scena di mano con Davide Magnini, molto applauso! L'esercito al taguardo con il 24, Team Dinabit, Aiole Cajdorakon! E Kilian Joynetto, Altaguito, Kilian! Sesto quest'oggi! Sixth place for a legend of the Skyrunner, Kilian Hornet! Vi Sottotitoli di Organisation